Si è tenuto domenica 17 novembre il Consiglio Pastorale Diocesano. A introdurre la serata al Vescovo Armando è il Vicario per la Pastorale Don Francesco Pierpaoli, che ha offerto ai presenti alcuni spunti di confronto sui due punti all'ordine del giorno, la bozza di statuto dei Consigli Pastorali Parrocchiali e la programmazione di alcuni incontri diocesani che valorizzino l'ascolto. La prima parte dell'incontro è stata dedicata interamente alla visione della bozza di statuto regolamento del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che era stato oggetto di discussione nell'ultimo incontro residenziale del Consiglio lo scorso giugno a Spicello. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, come si legge nello statuto, è un organismo rappresentativo della comunità, segno di comunione, strumento attivo di partecipazione e di corresponsabilità di tutti i fedeli, alla missione di rendere viva e cosciente la fede cristiana e più diffusa, la corresponsabilità alla vita parrocchiale. L'ultima parte è stata dedicata all'importanza dell'ascolto delle comunità parrocchiali e del territorio.